buongiorno a tutti allora non sto a farvi vedere la maglietta farò vedere nei futuri video perché non è che posso sempre farvi vedere la magliettina con la scritta visto che comunque l'argomento è sempre il medesimo cioè le bollettine del gigione quindi quattro partite ve le ho fatte altre quattro ve le ho fatte me ne faccio altri quattro opzione e tre delle bollette del gigione per la conference league ho scelto queste quattro partite Valor Bodoglimt FH Rosenborg Haiduk Spalato Tobol e Uipest Baduz quindi andiamo a vedere la bollettina numero uno con le fisse Valor Bodoglimt 2 FH Rosenborg 2 Haiduk Tobol 1 Uipest Baduz 1 con 5 euro se ne vinco 42,20 bollettina numero due Valor Bodoglimt multigol ospite 1,3 FH Rosenborg multigol ospite 1,3 Haiduk Tobol multigol casa 1,3 Uipest Baduz multigol casa 2,4 con 5 euro se ne vincono 18,66 ho rischiato il 2,4 su Uipest Baduz però è a vostra discrezione potete scegliere anche un'altra partita in ogni caso scegliete almeno una partita con multigol casa 2,4 perché se lasciate 1,3 su tutte viene fuori una cifrettina inferiore ai 15 euro quindi è tre volte la posta però è a vostra discrezione se non volete rischiare multigol casa o multigol ospite sulla favorita 1,3 e poi vi accontentate magari di detto questo andiamo alla bollettina numero 3 quella che mi piace molto e vi ho messo anche una piccola aggiuntina diciamo perché nei precedenti non l'ho fatto perché non mi sconquinferava a rischiare con una fissa su queste qua da doppia chance più over viceversa qui c'è una partita che si presta tra virgolette per i coraggiosi a poter essere utilizzato la fissa ma intanto cominciamo a vedere le doppie Valorbado Glimt is 2 più over over 1,5 ragazzi ve lo dico per chi non lo sapesse ancora fh rosenborg is 2 più over haiduk spalato tobol 1x più over uipes baduz 1x più over con 5 euro salvin con 25,43 potrei lasciarla così sono cinque volte la posta fa libidine però visto che c'è questa partita che si presta tra virgolette perché comunque poi la quota salsa mica da ridere la rischiamo per chi vuole quindi bollettina numero 2 alternativa Valorbado Glimt is 2 più over fh rosenborg is 2 più over haiduk spalato tobol 1x più over uipes baduz 1 più over con 5 euro se ne vincono 36,46 libidine sette volte la posta andiamo alla bollettina numero 4 che questa si mi fa libidine Valorbado Glimt gol casa fh rosenborg gol casa haiduk tobol gol ospite uipes baduz gol ospite con 5 euro se ne vincono 25,09 tutti i gol casa e gol ospite sono favoriti quindi magari si portano a casa vedremo andiamo alla bollettina numero 5 che qua cambiano un attimino le situazioni Valorbado Glimt gol più over fh rosenborg gol più over haiduk tobol gol più over uipes baduz gol più over con 5 euro se ne vincono 136,15 vi informo che Valorbado Glimt il gol più over non è favorito ma c'è una differenza inferiore a 0,25 a favore del no gol più anno fh rosenborg il gol più over non è favorito ma c'è una differenza di 0,35 a favore del no gol più under quindi siamo lì haiduk tobol più o meno sono alla pari con fh rosenborg quindi il no gol più under è leggermente favorito di 0,20 0,30 esagerando il no gol è leggermente favorito sul gol più over però siamo lì e uipes baduz invece il gol più over è favorito quindi anche questo come della precedente schedina bollettina scusate del video precedente a questo è lì lì e quindi come vi dico sempre siccome qualche chance c'è o vi giocate due euro o sennò scegliete una partita che vi piace la mettete nella vostra bolletta con altre tre partite con pronostici e vi create la bollettina su misura se no se volete rischiare i due euro alla fine della fiera con due euro se ne andrebbero a vincere da cinquantina più o meno più o meno circa quasi perché perché sì sarebbe 26 54 euro più o meno non fanno schifo con due euro concludiamo con l'ultima bollettina quella folle quella che io dico sempre che è folle valur bodoglin due più gol fh roseborg due più gol haiduk tobul uno più gol uipes baduz uno più gol con due euro se ne vincono 345,83 con 5 euro 864,57 allora le prime tre partite il gol non è favorito invece è favorito i nuovi pes baduz i bookmaker sono abbastanza convinti che un pes baduz possa finire 2 a 1 3 a 2 3 a 1 4 a 1 eccetera eccetera cioè tutte e due le squadre segnano e lui pes vince ci sono delle buone chance come diceva tirerebbero i francesi quindi facciamo la bollettina alternativa con tre no goal è un gol quindi valur bodoglin due più gol 2 più 1 gol scusate valur bodoglin 2 più 1 gol fh roseborg 2 più 1 gol haiduk spalato tobul 1 più 1 gol e uipes baduz 1 più gol quello resto uguale in questo caso con due euro se ne vincono 120,96 con 5 euro 302,40 bene ragazzoli con questo concludiamo i tre video che riguardano le bollette del gigione per la conference league e ci vediamo poi nella giornata di giovedì per nuovi video nuove cose eccetera 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 ho preparato anche un po' di call news nuove che verranno spalmate nei prossimi giorni c'è tanta carne al fuoco come sempre attendo sempre qualche notizia certa di mercato perché finché mi fanno ma forse arriva forse sì forse forse a me i forse non piacciono ma io voglio certezze quando ho le certezze vi dico è fatta se no evito già mi sono lanciato un po' troppo avanti con nandez perché pare che sono ancora devono ancora colmare qualche qualche cosa forse oggi ci sarà la conferma vedremo ciao ciao